Venite a corte, sono pronto a raccontarvi una storia, mi, molto bella, piena di principi, rospi e tu sorella Benvenuti su Storyteller, un gioco bellissimo dove io sono qua sopra Vedete, di solito sono un po' più centrale, ma qui vi devo far vedere bene quello che succede Dobbiamo completare le storie che ci verranno messe davanti Dobbiamo fare quello che ci dicono, ma possiamo cambiare tutti i personaggi, metterli nel riquadro dove vogliamo noi Vi faccio vedere, Adamo è solo, trova l'amore e muore felice Crea una storia con questo titolo, ma niente è più facile, ma questi non sanno che hanno a che fare con il miglior raccontastorie del mondo Allora, Adamo è solo, quindi lui lì è solo, poverino è solo, eh vabbè Ma poi trova l'amore, vedete, con Eva, Adamo ed Eva e si innamorano Però poi cosa succede? Muore felice, quindi Adamo muore felice Fatta! Lo so, è strano, però in questo gioco ci sono tantissimi capitoli Con tantissime storie che noi dobbiamo completare Quindi, fatemi sapere, non credo riusciremo a finirlo tutto in questo video Se vi piace però mettete un pollice in su così io lo capisco E lo facciamo ancora e lo terminiamo nel prossimo video Eva muore col cuore infranto Orca sozza! Allora, serve una scena di amore, sicuramente, vedi? E nella scena di amore ci dovrà essere Adamo ed Eva Che si amano, ok? Però attenzione, perché poi deve succedere qualcosa Muore col cuore infranto, come fa a morire col cuore infranto? Beh, secondo me muore Adamo Ok? E lei ha il cuore infranto Dopodiché cosa succede? Muore anche lei E muore col cuore infranto Orca miseria! Non lo sapevo, ma a quanto pare ho un talento naturale per questo gioco Eh, buono a sapersi, buono a sapersi Torniamo indietro Prossima storia Al di là Vai che le cose magari si sviluppano bene per i nostri eroi Vedere il fantasma di un amante Ah! Allora, amore Adamo ed Eva All right Poi Poi Muore uno dei due Ok Nice Non dovremmo essere contenti della morte di loro Però se vedete che cosa vi dico Ma a noi, ma a che ce ne frega Guardate come sono triplo oggi, eh Guarda, guarda Come sono multiplo Ci sono tantissimi lion sullo schermo adesso Guardate E' pieno di lion dappertutto Vedete il fantasma di un amante? Beh, qua è facile Lui è morto Adesso semplicemente Amore Uno E due Pam, pam, pam Bravo Bravi Anche voi Sono sicuro che anche voi Sareste lì pronti a risolvere queste storie Da bravi, no ragazzi Capaci di creare storie Come siete, sono certo Un cuore infranto guarisce Ah, qua abbiamo più personaggi Però, vedo, eh Cos'è questa? Una chiesa Ah, una chiesa per sposarsi magari Un cuore infranto guarisce Allora, aspetta Allora, secondo me No Un cuore infranto ci serve a noi però Un cuore infranto Come fa ad essere infranto? Deve morire qualcuno Eh no, però No, aspetta Ah, lo so, lo so, lo so, lo so Allora, loro si amano Poi Muore lei Lui è infranto Però nell'ultima scena Si risposa E guarisce Mamma mia Però certo che Si è liberato in fretta, eh Del pensiero dell'amante Ah, c'era C'era un segreto Potevi completarlo Senza nessun morto Sapete cosa vi dico Non abbiamo tempo per queste cose Va bene o sì Anche se c'era il morto Andato bene lo stesso Un cuore infranto guarisce Di nuovo? Ah, con la resurrezione abbiamo È un sperimento pazzo Allora Amore Di loro due All right Poi Cosa succede? Allora Uno dei due muore Muore lei Ok Poi Lei resuscita però Ah, very nice E si riamano di nuovo Mamma mia Ma io la lancio Mamma mia Super bravo Prossimo ancora Sfortuna Mi piace questo gioco È molto interessante Fatemi sapere anche voi Nei commenti Quante ne avreste indovinato E se volete vedere il continuo, eh Tutti respingono Edgar Oh, povero Edgar Sfigato, eh Allora Lo devono respingere tutti Ok Come facciamo a farlo respingere? Mmm Non è facile, eh Perché vedi Tecnicamente dobbiamo far sposare due Due Dobbiamo far sposare due che non sono Edgar Ok A quel punto Questa respingerà Edgar Ovviamente perché è già sposato È una persona seria Ma anche Lei Respingerà il nostro Edgar Adesso attenzione perché c'è anche Bernardo Bernardo accetterebbe Edgar Quindi dobbiamo produrre una morte Secondo me Dobbiamo far morire Lei E lei Piagne Ok Però adesso cosa succede? Che Lei Può accogliere l'amore di Bernardo E infine Questa era difficile, eh Comunque Quindi adesso Bernardo Anche rifiuta Edgar E noi siamo dei king Ma Ve lo devo Oh, voi 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 avete la fortuna Di essere stati Aiutati a essere così fantasiosi Dal mastro creatore di storie Il narra storie Number one Il menestrello supremo Youtubico Quindi Cioè guardate qua Che espressione di talento Così Tattam Lutto I coniugi sopravvissuti Trovano conforto Le storie possono usare meno riquadri Va bene Allora Coniugi sopravvissuti Che trovano conforto Coniugi sopravvissuti Questa messa è stata tradotta Un po' Un po' così, eh Un po' così Allora Edgar È confortato Però attenzione Perché magari Cosa potrebbe succedere? Magari Si sposano in due Perché no? Certo Si sposano in due Very nice E poi E poi Muore Guarda che so genial Guarda che so genial mitico Allora muore La tizia di questo qua E muore anche Edgar E adesso Cosa succede? Si risposano Edgar Con Bernardo No Edgar è morto Scusate Lenora con Bernardo Ed ecco qui Un'altra Soluzione Trovata Dal menestrello Pazzo Eh Possiamo proseguire Anche al prossimo Apparizioni Edgar si stupisce Di se stesso Ah brutto sei Brutto sei brutto Magari Si dimentica Di chi è Poi Cosa succede? Vede lo specchio? Non si stupisce però Allora magari Prima deve morire Allora Prima muore Non Prima muore Ok Poi Aspetta perché questo è difficile Si dimentica perché è morto Poi vede lo specchio E si ricorda Ma di essere morto Oddio Ma è un talento Innato Una pazzia Una follia creativa Che ci sta imperversando A tutti Eh questa è lunga eh Questa è difficile Porca zozza Questa è difficilotta Un rifiuto Della dolce metà Magari deve risuscitare No aspetta Un rifiuto Della dolce metà Aspetta ho capito Ho capito Allora lei Si deve risposare Con Edgar Per esempio No eh Che va molto bene Ma poi cosa succede? Che lei risuscita Però cosa succede A questo punto? Che lei Si ripropone a lei Ma lei la rifiuta Perché adesso È sposata con Edgar E lei si arrabbia pure Dice ah come Ma già mi dimentichi Ma tu sei una sconfidata Bene bravi bravi Riunione I coniugi affranti Sono riuniti Madonna ma stava diventando Sempre più difficile Affranti sono riuniti Allora Allora No allora Si sposano Prima di tutto C'è sempre uno sposalizio Di mezzo qua Spusazze Poi Uno dei due muore E l'altro si affrange Poi cosa succede? Tecnicamente Forse deve morire Anche l'altro Secondo me devono morire Anche l'altro Allora morte di nuovo Di Edgar Ok Poi C'è una risurrezione Di tutti e due No 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 Solo di uno Lui Ok Ah ma lei non è morta Aspetta perché è sempre Edgar Qui ho sbagliato Edgar è morta Lei muore pure Ho capito Così E infine Così Perché Perché entrambi Sono morti E alla fine Entrambi Si sono ritrovati Mmm Inizia a diventare difficile C'era anche un finale segreto Qua in mezzo Di ritrovarsi Nell'aldilà Quindi entrambi Fantasma Fattibile Bastava non farli risuscitare Però va bene così Ci accontentiamo Tutti col cuore Infranto Urca Questo è complicato Allora serve Uno sposalizio Sicuramente Poi cosa succede Una morte Quindi praticamente muore Una delle due Poi cosa succede E questo è un bel problema Allora aspettate Perché si può fare Edgar si risposa Così Poi cosa succede Lei resuscita Ok E si propone A Edgar di nuovo Ma Edgar le dice di no E però Come facciamo a infrangere Il cuore di Isabel Questo è un casino Perché se lei resuscita Non possiamo infrangere Anche il cuore di lei Lei ormai è È tranzolla Dovrebbe morire Eccolo Mamma mia Perché così muore Anche lei Spero riuscite a capire Anche se c'è il mio faccione In mezzo Lei No No Aspetta Lui No Lei Sì No Mi sono Allora lei è resuscitata Quindi lei sta qua Lei era innamorata con Edgar Edgar è morto E ha deluso Forse deve morire Lei E sono tutti col cuore in franto Non sono tutti col cuore in franto Tu qua No Oddio Ah E aiuto È difficile Ok calmi 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 Bisogna Bisogna avere Il sangue freddo Allora Calmi Allora Edgar e Isobella Si amano Poi cosa succede Però muore Edgar E Isobella È triste Poi Adesso Attenzione Edgar risorge Ok Attenzione A te Isobella è triste A questo punto Edgar Si sposa Con Lenora Edgar e quell'altra Si amano Dopodichè Lui muore Lei si ama con l'altra Edgar muore di nuovo Cioè risorge Poi allora Muore anche l'altra E adesso Edgar Cosa deve fare Che gli muore No Questa Oh mio dio Oh mio dio Questo era un delirio Sembrava di fare i regali a Natale A tutti i parenti Non si capiva Chi regalare Che cose Un accoppiamento folle Però siamo già arrivati Al capitolo 4 Che potenza Uno Veleno Lenora beve il veleno Lenora perché bevi il veleno Sei matto Beh scusa Già e basta Fa così no No perché non lo beve Giustamente da sola Non lo beve Allora facciamo così Lenora ama Edgard Ok ma Attenzione anche Bernardo Bernardo Quell'estofante di un Bernardo Ama Edgar Quindi Cosa fa Bernardo No non si Non prepara il veleno No non fa così Ok allora Muore Muore Lenora E Bernardo Ah ho capito Ho capito Allora Edgard muore Leonora Leonora si dispiace tantissimo E allora Beve il veleno Per Super Tornare Ricongiori No come l'amore Capito l'amore Bello Bello Bruto Bruto Tragedia Attenzione Doppio veleno Ma beh si complicano le cose Eh Allora Edgar ama Lenora Poi cosa succede Muore Lenora Arca miseria Dice Ah l'amore 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 E quindi Lenora Edgar Beve il veleno Dice no non posso vivere Non posso vivere E quindi si muore Poi Cosa succede però Lenora Rivive Ma trova Che Edgar è morto E dice Arcazzozza È morto Il mio amor Perduto E allora Beve il veleno Mamma mia Ma fuma Impotenti Ma questa è roba Dell'altro mondo Una storytelling Del genere Così Puh Un pelo di bocca Puh Che schifo Eh Ma che perché Pazzesco Isobel si risposa Ah beh Questo è facilissimo Mio Dio Ma c'è di tutto qua C'è il vino Il veleno Una disputa Che casino Beh allora Prima di tutto Si sarà sposata Facciamo con Edgar Questa volta Si si sposa Poi Cosa succede Edgar si ubriaca Perché Non si sa Non si ubriaca più E Ehm Litigano 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 Bisticiano Ah Mannaggia le corna De mamma Insomma Un casino Si arrabbiano L'un l'altro Terribile E poi Si risposa Beh Forse uno dei due No Non ti vuoi avvelenare Beh Potevi Magari Allora Isobel Si risposa Con le no No Perché ancora È innamorata Di Edgar Forse non l'ha litigato Abbastanza Magari Lei si ubriaca Magari L'ubriacarsi La fa imbambire E si sposa Subito Con quell'altra No Ancora E allora Beve il veleno No Beve il vino E poi il veleno Vuole avvelenare L'altro Dopo essersi ubriacata Ah ma Maledetta Va bene Allora Avvelena Edgar No Ho capito Allora Aspettate Allora è facile Isobel Vuole avvelenare Edgar Edgar Beve il vino E muore Perché lei Ci ha messo il veleno Dentro E allora Isobel Si risposa Mamma mia Ma una volta Dietro l'altra Pem 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 Creiamo storie Come le galline Fanno le uova Bravissimi Bravissimi Anche voi Datevi una pacca Sulla spalla Da parte mia Così Bravi Allora Isobel Commette un crimine Ah Allora Isobel No Isobel si sposa Perché poi inizia sempre Che si sposa Questa volta Con Lenora Poi cosa succede Però Che Isobel Si ingricca Dice Però non vuole Uccidere nessuno Lei Lei no Lei però è più cattiva Questa è Ah Vedi lei è baccata Vuole uccidere tutti Ok Ok Allora Muore Lenora No non l'ha velenata Giustamente La ama La ama Però Odia Edgar Non odia neanche Edgar Magari Edgar Ci prova con Lenora Allora Isobel si arrabbia No E non lo so Questa Questa è Ardua Eh Magari Magari Edgar Edgar Non fa nulla Lei è un po' più viziosa Col veleno Però non lo usa Ci deve essere Il fattore Edgar In questa equazione È Edgar Che si sposa con lei Ma poi cosa succede Che Isobel Si propone Lui lo respinge Perché qua c'è un debole Tra Isobel Ed Edgar Quindi lei si arrabbia Valuta l'opzione Velenifera Vuole avvelenare Lei Che beve Muore E anche un'altra Ce la portiamo a casa Ci sarebbe un altro finale Finiscono per morire tutti Però Diciamo che possiamo fregarcene E procedere Al capitolo 5 Bellezza Maledizione Bellezza o maledizione O bellezza maledetta O maledizione bella La maledizione è stata Revocata C'è la foresta Il bacio La strega Ah la strega sta nella foresta Sicuro Chi va Bianca e principe Oh mio dio Allora Biancaneve viene maledetta E diventa una rana Ok Poi Biancaneve e rana Baccia il principe No Biancaneve e rana Baccia il principe Che non vuole Vabbè Oh Devi baciare il principe Non rompere le balle Che vuoi Perché no Ah ho capito Allora Prima si innamorano Poi la strega Fa le sue macumbe E la fa diventare un rollo E poi Eh perché non è che vai a baciare E beh Ma la amavi Perché non va bene Allora Ci abbiamo il rospo Magari c'è bisogno di un incontro Conoscitivo Quindi la La biancaneve Vede il rospo Che le dice Ah sono io il tuo principe E poi Eh E poi si baciano Meno male Dai Tutto è bene Quel che finisce bene La maledizione l'abbiamo tolta Adesso c'è Inganno Il principe salva piccolo Chi è piccolo Chi è Chi è Chi siete Un nano Ah Il nano è stato trasformato In una rana Maledetto Maledetto Allora Sicuramente il principe Incontra il rospo Nano Però gli fa schifo Giustamente Forse biancaneve Più predisposta No fa schifo Fa schifo a tutti Beh del resto Ho capito E vabbè Qua bisogna salvarlo Ed è il principe a salvarlo Allora qui si incontra con biancaneve E si vogliono molto bene E poi Magari biancaneve pure Viene trasformata dalla strega Perché tanto la strega Fa solo quello Eh Così A questo punto Nella foresta Il principe incontra biancaneve La vuole baciare Ma Cosa succede? Il nano si mette in mezzo E si fa baciare Che sfiga Povero principe Gli è toccato baciare piccolo Vabbè Vabbè Non dovrebbe importare Sei sempre eroico E la madonna Quei è difficilissimo Porca zozza La strega diventa la preferita Dello specchio Beh è una bella strega questa eh Allora Nella foresta c'è la strega E biancaneve No Non c'è questo C'è lo specchio E la strega Che lo specchio Le dice Ah biancaneve è più bella di te Bu 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 Allora la strega Fa un intruglio No Così sei più brutta però Scusami eh Perché prima eri bella E mo se Un mostro Ah ho capito Forse La strega Prima fa un intruglio Per divenire bella Ok Poi nella foresta Fa brutta biancaneve E poi allo specchio E cazzo La rana è più bella di noi Ma è possibile Più bella la rana Madonna Ma perché noi siamo brutte Perché siamo brutte Eravamo più belle prima eh Dobbiamo cuocere la rana Mi che casino Aspetta eh Allora La strega Incontra biancaneve Nella foresta E non la fa diventare brutta Eh non ho capito Allora La strega No La strega fa Questa cosa qui Questa inizia a essere difficile eh Ma non voglio essere Antipatico Però inizia a essere difficile Trasforma biancaneve Poi La cuoce No Non la cuoce La rincontra nella foresta E la insulta No Non penso che serva Questo ok Ah lo specchio Ama il rospo Perché Cosa devo fare io Ci vuole un altro calderone No La strega deve fare un'altra magia Ah per divenire bella Certo 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 A questo punto No cosa ho fatto A questo punto La strega è più bella E abbiamo vinto Ma questa era difficile Ma noi siamo stati sul pezzo Lo specchio elogia tutti Ma perché c'è Cosa sono questi Questi ignomi qui Odioso Non mi sembra così odioso E quest'altro miele Odioso poteva spingere miele Ma non lo fa Perché è bravo Comunque Vabbè allora Allo specchio Allo specchio piace miele Però odioso Si gira Si arrabbia Non si arrabbia Allora aspetta Aspetta eh Allora lo specchio No allo specchio Adesso piace miele Allora si arrabbia odioso Ok Che è odioso Già di per sé No è proprio Tipicamente arrabbiato E spinge miele Dice ah muori miele Adesso No ho sbagliato Porca cazzo Qui era miele Ok Allora adesso Odioso ha spinto miele Quel pezzente Quindi lui adesso è il migliore Ok La rana Spinge odioso Ok No sbagliato Aspetta Ok La rana La rana non fa nulla Miele è morto Eh però da morto Spinge odioso E adesso Il ranocchio è il più bello Ma avete visto quanto sta diventando intricato E noi lo stiamo domando questo gioco eh Lo stiamo domando Nonostante la sua pervia difficoltà Andiamo avanti L'assassino Capitolo 6 Il maniero Oh ragazzi Stiamo andando come dei treni Come delle furie Come dei pazzi La furia del maggiordomo Ehi Allora nella sala Il maggiordomo Il duca Gli chiede Allora magari C'è la duchessa E il maggiordomo No gli chiedono tutti la stessa cosa Allora magari Il duca e la duchessa Si vogliono bene Allora magari Il duca Spara la duchessa No Al duca piace la pistola E poi Il duca spara la duchessa Non è vero E spara il maggiordomo E Ah ho capito Il maggiordomo Vedi perché il maggiordomo Vede loro che si vogliono bene E gli girano le scatole E allora spara il duca E non è andata bene però Allora spara a tutti Ho capito Il maggiordomo è un gran cattivo E spara a tutti Ehi Maggiordomo Mamma mia Prossimo Ah Arma Il duca prova sollievo Ah ottimo Allora qua il maggiordomo Che è un disgraziato Para al duca E il duca vede che non c'è più l'arma E il maggiordomo la rimette a posto E il duca la ritrova Questa era una storia un po' strana eh Però non l'abbiamo capita bene Impronte Qua stiamo ricostruendo quello che è successo eh L'investigatore arresta l'assassino Allora Attenzione Il maggiordomo vede la pistola Il maggiordomo è fissato eh Va dal duca e gli spara E già Va male Poi L'investigatore Dice ah E' morto il duca Forse magari è meglio se Trova l'arma del delitto Che manca Interessante Allora Va qua e dice Ah ma non è che poco poco Sei stato te Brutto disgraziato E magari C'è anche il duca Fantasma E quindi Alla fine No È più difficile Che è previsto Allora secondo me Giusto che vede che non c'è l'arma no Però magari poi Il duca No qui ci sta una sola persona Ah lui la rimette a posto Lui la rimette a posto Magari allora qui Eh vedi ha trovato le impronte Ha trovato le impronte Quindi questa parte qua Non c'entra Ah mamma mia Eh allora forse questa Così Quindi la pistola Viene rimessa a posto Lui trova le impronte Dell'imbecille E lo va a confrontare E lo arresta Bravi ancora No 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 Non ci facciamo mai domare noi Siamo imperversi Tanti Come un fiume in piena L'investigatore arresta un innocente E qui c'è qualcosa Andato male eh Allora Maggiordomo apre la pistola Poi va in sala E spara al duca Che zozzo Poi cosa succede In sala C'è la No la duchessa è solo triste La duchessa Allora Maggiordomo rimette a posto la pistola La duchessa la deve toccar No la La repelle Non la vuole Mmm Come facciamo a fare in modo Che un innocente Tocchi la pistola E qua è un casino eh Ho capito Questa volta lo zozzo Non deve ammazzare il duca Deve ammazzare la duchessa Perché il duca La pistola la tocca Vedi Se la va lì a lucidare L'imbecille E allora poi cosa succede Arriva l'investigatore Vede che è stato il duca E lo arresta E anche qui Oh ma Mamma mia Quasi troppo bravi eh Quasi troppo bravi Abbiamo terminato anche il capitolo 6 eh Siamo arrivati quindi All'intrighi di corte Capitolo 7 Però sapete che cosa c'è Io direi che abbiamo Giocato abbastanza Che ci possiamo fermare Fatemi sapere se volete vedere Un altro episodio di questo gioco Perché così possiamo anche finirlo Per oggi però Ci salutiamo Grazie di aver guardato il video E Lion Out Grazie a tutti Grazie a tutti